William, principe del Galles, è un principe della famiglia reale britannica. Figlio primogenito del re Carlo III del Regno Unito e della defunta principessa di Galles Diana Spencer. Dall'8 settembre 2022, è primo nella linea di successione al trono del Regno Unito. La corona o la vita? Il dilemma di William, ventitresimo principe del Galles, risuona tra le mura del castello di Windsor, valica ai confini del grande parco intorno al maniero, risalente a Guglielmo il conquistatore che dà il nome alla casata regnante britannica e, trasmesso di sussurro in sussurro, diventa argomento di conversazione e analisi nella Londra che conta. La questione è presto detta. Il futuro re d'Inghilterra, come è comprensibile? Sta affrontando la mannaia che si è abbattuta sulla famiglia che si è costruito? Parliamo di quel tumore che si annidava, subdolo, nell'addome della consorte Kate e che, come la stessa principessa ha confermato nell'ormai storico video del 22 marzo scorso, ha reso necessario un ciclo di chemioterapia preventiva post-operatorio.